Alle 15.30 fischio d'inizio di Nissa-Akragas al campo sportivo Palmintelli di Viale della Regione per l'andata degli ottavi di finale fase regionale di Coppa Italia. La gara di ritorno è prevista il 12 ottobre all'esseneto di Agrigento. Intanto i tifosi attendono di conoscere il nome del nuovo allenatore dopo l'esonero di Alessandro Settineri. Sul fronte agrigentino massima concentrazione in vista della partita. Parla il tecnico dell'Akragas, Nicola Terranova, sulla pagina Facebook del club Biancazzurro. Una gara difficile, una gara contro un avversario ferito nell'orgoglio. È chiaro che non dobbiamo fare l'errore di pensare di trovare un avversario sgonfio, un avversario senza motivazione perché penso proprio sia al contrario, anche perché ci saranno giocatori che vorranno dimostrare di meritare la piazza, di meritare la maglia. Ripeto, reputo la Nist è una squadra con delle buone individualità, poi se di collettivo devono migliorare questo è un altro discorso, però se ti devi salvare non prendi Di Biase, Ortiz, Lucero e tanti altri. Rimango nella mia opinione, sappiamo di affrontare un avversario difficile, su un campo non al meglio, però sono convinto che chi sa giocare a calcio lo sa fare in tutte le superfici. Abbiamo preparato la partita come al solito nei minimi dettagli. Mentalmente stiamo bene, dobbiamo confermare quelle che sono le nostre qualità, cercare di migliorare la fase conclusiva che forse è l'unica pecca che abbiamo fino a questo momento.